Networking politico a sostegno della lista Abruzzo insieme della candidatura di D'Amico Presidente per le prossime regionali. Le tematiche al centro per il candidato al Consiglio regionale Marco Alessandrini sono la nuova Pescara, servizi al cittadino e deficit sanitari. Quali gli obiettivi condivisi con D'Amico? Guardi, io se dovessi dire in una parola quella che per me è la priorità della questione Abruzzo, certo la sanità, le differenze sociali, il lavoro, però io penso che la nostra rotta di sviluppo dovrà essere quello dello sviluppo sostenibile. Sulla sostenibilità noi penso ci giochiamo molto, in questo senso credo che vadano anche le dichiarazioni del candidato presidente rispetto alla sua idea di trasporto pubblico come renderlo più attrattivo, ma ci sono naturalmente tante questioni. Io mi sono sentito in un certo senso convocato per questa grande battaglia, sono contento di farlo, è un modo per sentirsi giovane e anche per mettere a disposizione di una comunità l'esperienza maturata. Che tipo di candidato è Marco Alessandrini, D'Amico? Un candidato di cui siamo tutti orgogliosi, un candidato che ha dimostrato come sindaco di Pescara la capacità di comprendere i problemi, di individuare delle soluzioni e soprattutto di lavorare nell'interesse della cosa pubblica. È un candidato di cui c'è un gran bisogno nel momento in cui il nostro obiettivo è quello di far tornare la Regione Abruzzo a crescere, di rilanciare lo sviluppo economico e la crescita sociale della nostra comunità. Noi contiamo molto, non solo sull'esperienza accumulata, sulla grande esperienza di governo accumulata, ma sulla capacità, la grande capacità di lavoro e la grande capacità di lavorare avendo come bussola l'interesse della Regione Abruzzo. E questo Marco Alessandrini ce lo garantisce ampiamente. Siamo felicissimi di poter insieme proporre agli abruzzesi un percorso che possa riportare l'Abruzzo ad essere nuovamente una terra ricca di opportunità.